Quasi vent'anni fa è scomparsa la democrazia cristiana, il partito che per mezzo secolo ha dominato la politica italiana. Un partito oggi al centro di studi, riflessioni, bilanci. Paolo Messa con Giovanni Di Capo ha scritto questo libro, DC, il partito che fece l'Italia con prefazione di Giulio Andreotti per Marsilio. Messa il partito che fece l'Italia, forse come titolo non era meglio il partito che rifece l'Italia dopo la guerra? L'Italia come paese e come repubblica nasce nel 1861 e quest'anno festeggiamo i 150 anni, quindi se vogliamo essere precisi bisognerebbe dire che rifece l'Italia. In realtà la ricostruzione che si realizzò subito dopo la guerra, è stata una ricostruzione straordinaria e forse lì è nata l'Italia moderna che noi conosciamo. Voi scrivete nel libro che la DC di De Gasperi, quella iniziale diciamo, era un partito democratico di ispirazione cristiana, ma il suo elettorato che orientamento aveva in realtà? La democrazia cristiana è stata un partito che ha cercato sempre di rappresentare gli italiani, la sua maggioranza anche quella silenziosa e quindi il suo era un elettorato che forse oggi definiremmo di orientamento moderato, però è un elettorato che forse è cresciuto con la democrazia cristiana, con le sue virtù e anche con le sue contraddizioni. Moderato ma forse anche un po' conservatore all'epoca, non è un paradosso che la sinistra democrazia cristiana abbia avuto così tanto peso, quantomeno intellettuale e culturale, in un partito che aveva un elettorato diverso. Dunque, la democrazia cristiana a mio avviso fu senz'altro un partito che oggi definiremmo conservatore e al suo interno aveva tante anime, tante correnti che non erano quella cosa spregevole che oggi tendiamo a immaginare. Sicuramente aveva una grande influenza anche la corrente di sinistra perché il mondo dei lavoratori e dei braccianti agricoli all'inizio era molto forte nel partito e quindi faceva sentire la sua voce. È una dialettica democratica che come abbiamo visto ha portato dei risultati positivi. Su quali basi costruì il suo consenso? Ecco, al di là della base sociale, su quale basi culturali in realtà? Beh, sicuramente l'ispirazione cristiana è stata fondamentale. La democrazia cristiana nasce nel 43, nel luglio del 43 i suoi documenti principali sono stati il codice di Camaldoli e le idee ricostruttive. Lì è venuto il faro di un'azione che si è dipanata per quasi 50 anni. Delle basi solidissime che hanno retto per quel tempo e probabilmente sarebbero utili anche oggi. Facciamo un salto al declino della prima repubblica di cui la democrazia cristiana è stata protagonista assoluta, diciamo. Negli anni di Tangentopoli voi ricordate la DC di Martinazzoli che da poco scomparso aveva secondato l'ondato di Mani Pulite. Perché non riuscì a salvare il partito? Non so se sarebbe stato possibile fare diversamente da quello che è successo. Ed è giusto anche ricordare a poche settimane dalla scomparsa di Mino Martinazzoli l'ultimo segretario del partito. Un galantuomo, un uomo straordinario, probabilmente è una pagina, quella della storia democraziana, che poteva essere chiusa diversamente, senza cedimenti ad un'ondata moralista che in quel momento era molto forte. Bisognava riuscire a separare il bambino e l'acqua sporca. L'impressione è che abbiamo buttato il bambino e ci siamo tenuti un po' di acqua sporca. Un'ultima battuta, è soltanto un'ipotesi di scuola la rinnovata unità politica dei cattolici? Io credo che l'unità politica dei cattolici non sia il tema che ci attende nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quello su cui in tanti stanno lavorando e anche scommettendo è la unitarietà del mondo cattolico, partendo proprio dalla base della dottrina sociale della Chiesa, l'ultima enciclica del Santo Padre, Caritas in Veritate. C'è tanto da fare e intanto se riusciamo a superare la damnazio memoria di un'esperienza straordinaria quale fu la democrazia cristiana, possiamo forse fare qualche passo in avanti positivo nel bene comune dell'Italia. E questo lo vedremo se non nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Con Paolo Messa abbiamo parlato di questo libro che ha scritto con Giovanni Di Capua, DC, il partito che fece l'Italia per Marsilio. Grazie per averci seguito e buonanotte.